signori comunicazione di servizio il 17 18 19 maggio io sarò ai modena play questo avevo già detto durante i video voglio fare questo corto dedicato perché ci saranno due cose importanti a questa edizione del modena play almeno per quanto riguarda me la prima abbiamo il concorso vienici a cercare per quanto riguarda scrivi la tua avventura sono avanzati ancora un sacco di segnalibri e so che tantissima gente li voleva soprattutto quelli che hanno preso l'edizione online quindi noi saremo lì sia io che mauro longo che ma la spina veniteci a cercare e fino all'esaurimento scorte chi ci trova si riprenderà un segnalibro e seconda cosa per quanto riguarda me io la maggior parte del tempo sarò al padiglione b quello nell'area giochi indipendenti perché insieme al resto di fabola crew studio terremo le dimostrazioni del quick start di armalia che è il gioco che stiamo progettando e lavorando da oramai oltre un anno e che avrà la sua presentazione ufficiale proprio a questa edizione dei modena play fine della comunicazione di servizio ci vediamo direttamente a modena grazie a tutti